Una risorsa non presente tra le default di Kubernetes, ma che può essere aggiunta a quelle disponibili. Questo è reso possibile dall'operator. L'operator permette di creare specifiche risorse native sulla base della definizione della CRD. Potenzialmente infiniti per ognuna delle tecnologie di mercato. Red Hat possiede un suo specifico marketplace, ma chiunque può sviluppare un'autonomia il proprio operator. Vessel è un operator sviluppato da SourceSense.